In questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiane. Nio Talk Show ha tre ospiti fissi in studio, tutti e tre sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il quarto ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Mio Talk Show dove si dibatteranno tanti temi d'attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore, andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Buonasera, io sono la signora Pina. Buonasera, io sono la signora Pina. Buonasera, io sono la signora Pina. Ciao, io sono il tuo moderatore. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Talk Show. In questa puntata parleremo della fine del petrolio. è un tema che non è di solito trattato nei talk show e per poterne discutere con ragion veduta occorrerebbe un geologo, un ingegnere minerario, un economista, un climatologo, un militare. Ma noi non vogliamo creare allarmismo, quindi anche in questa puntata spacceremo disinformazione e propaganda riempiendo di merda i telespettatori. La curva di Hubert è di solito annessa alla fine del petrolio. La curva campanulare indica i livelli di estrazione medi di un pozzo petrolifero, che prima sale e poi scende. Se un pozzo petrolifero in media ha questa tendenza, allora la somma di tutti i giacimenti del mondo di petrolio avranno questa dinamica. Sentiamo cosa ne pensa della fine del petrolio la nostra opinion leader, la signora Pina. C'è il polpettone sul fuoco, ma se il petrolio sta per finire, bisognerà comprare altro petrolio e metterlo nel surgelatore, così si conserverà più a lungo. Sentiamo cosa ne pensa Jack, mio fratello, della fine del petrolio. Well, in the future we will drill in Greenland and use the South Pole too. Sì, mio fratello Jack dal Texas dice che il petrolio non finirà mai, ci sono enormi giacimenti in Greenlandia e al Polo Sud e in molti alti posti sulla terra. Per questo la curva di Hubert è una stronzata. Inoltre è noto che l'ingegnere minerario Hubert sniffasse i vapori di petrolio. E come un cane da tartufi questo gli permetteva di trovare nuovi pozzi di petrolio. Forse però tutto quello sniffare dei vapori di petrolio potrebbe averlo rimbecillito? Cosa ne pensa il nostro amico alieno EGGEL della fine del petrolio e della curva di Hubert? I carburanti fossili sono in quantità data, sono viene da terra. Carboni e metano sono le fonti di energia fossili. Perfetto, anche il nostro amico alieno EGGEL ci conferma che il petrolio non finirà mai e quindi l'ingegnere minerario Hubert delirava. Forse non tutti sanno che a Greta Thunberg mi puzzano piedi e non va nemmeno più a scuola, proprio dal puzzo. E non sapisce perché bisognerebbe ascoltare discorsi di una ragazzetta che non ha fatto nemmeno, diciamo, l'esame di maturità. Sentiamo cosa ne pensa di questa cosa mio fratello Jack dal Texas. Ciao, io sono il tuo mantennista. Ringraziamo Arturo Antenna, il nostro sponsor, la trasmissione volge al termine. In breve il petrolio non finirà mai, la curva di Hubert è una stronzata e a Greta Thunberg li puzzano i piedi. E per questo è stata cacciata da scuola e si è messa a fare gli scioperi per il clima. Salutiamo gli utenti, la prossima puntata parleremo di energie rinnovabili. Grazie. Grazie.